Ti è piaciuto no 203 questo è lame vado io vado io dove cazzo sta effe figlio di pu... bravo è giusto così ho fatto una cazzata io è il corretto ora siamo qui quindi prendi cazzo su se mi interdisci devo fare ancora 3 kill effe il dialetto toscano è quello che mi fai capire mi fai fare sto cazzo di medici ti stai divertendo giocare così brutto fallito di me da dietro la faccia sparano che l'ha boxato io mi hai detto del pari traia della merda vado io vado io bene perfetto e fin qua non abbiamo problemi allora sto cominciando a capire qualcosa eh mario mario qua la vedo la vedo bruttissima merda sto cominciando a capire no il il tutto qui di qui questo qui perché tua madre succhia la cappella mamma mia mamma mia io sono un affare da poco sentiamo la farà proprio mi allora io ti vedo proprio che sia un in me lo giuro che non lo è ok allora io ti faccio questa era una ragazza che pesce a se già sposati sono sposato con i soldi ok ti voglio proporre un affare importante io se vagabondo che sono io facciamo così se ti faccio ridere già mi fai ridere mille dollari ogni volta che siti allora guardati in faccia conta ora sono mille dollari allora lo sai come fa un gatto in pista no sono altri mille dollari mai mai sentito un lupo cantare una canzone trappo con l'auto tion no adesso purtroppo si e mi hai fottuto 5 mila dollari cosa dice o pulcino del forno lo sio foco devo mille dollari anche al signor non è semuts ma perché io sono겠죠 scivolando sto scivolando questi sono altri mille dollari lo sai perché un poliziotto non prende il viagra no perché aiuta il cat e non dico io andando in malora abbiamo terminato un attimo ancora non è finita lo sai dire in napoletano questo il mare chi sto mare un'altra cosa ma per caso a portata di mano lei ha un fazzoletto no no lo sai che lei potrebbe mandarmi in malora se andiamo avanti così altri 10 minuti perché lei ne conoscerà vagonate ma dai ma cosa ma cosa ma se c'era un muro è una piramide what the fuck ma come è possibile ma c'è questo ma di dio guarda com'è bello questo aereo vai su non ci lanciamo non mi ricordo come mi lancio io devi toglierti sempre con lo stesso comando ok ma aspetta che saliamo non ti sembra il pare caduta la pietra ok ciao non ci sono oh god aiutoooooooooooooooooooooooooo io ora ok questa ca... va bene per quello che posso aiutarti spero che questi due milioni ti facciano comodo fammi sapere anche per il finanziamento ci vediamo dopo il blackout ok ciao 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 sto bene tutto bene tutto bene quasi non tantissimo però meno male che era blindato queste sono quelle da rally ottimo uscita grazie a dopo a dopo dove vado devo andare non so come uscire non so come uscire non so come uscire non sto bene sto bene allora devo pagarmi anche sto pagarmi anche la scorta armata nel senso sto soffocando o io non riesco a stare in via ed i ragazzi ma io non ho capito di non prendere danno secondo me è meravigliosa questa un secondo gira a proposito ecco cosa ti volevo chiedere ma non è stato il flash fai qui l'ho usato io oh la sa quella dei beduini F no no ci sono due beduini che sono nel deserto no e stanno andando con i loro cammelli e a un certo punto trovano uno asino e figa uno dei due lo vedi che non sta tanto bene l'altro quando lo guarda gli fa ma cosa c'hai da lamentarti fa figa ci sono 40 gradi all'ombra e quando lo guarda gli fa e cazzo non metterti all'ombra ah scusa devi sparmi queste cagate scusi a me è piaciuta si si non è male grazie a tutti